Via! 41 centesimi di vantaggio sulla Vagoni, 5 da recuperare sulla rota. Dai! Alla grande o qua in alto? Alla stragrande! Che rischio! Che rischio! Adesso non deve aver paura di quel rischio, perché sta andando come un trea. Un attimo di ritardo di linea, purtroppo accumulato in quelle 5 porte. Porta via, via, via! 1.20.21 dovrebbe arrivare tranquillamente avanti. Non sull'interno. È 1.24. Ha scelto in godi incredibili in alto. Sarà dura per la notte. Dai, via, via! Non si può aumentare come prima e per la vita non potrebbero essere fissati. Ecco l'ora nella prima. Deve prendere velocità dell'ultima porta. Non deve mollare. Deve continuare a lasciar colere l'ossidità. Non è lasciar di più. 42, 43. Prima sicura la quant'è? È 1.27. 1.27. 1.27 è tanto dal gioco. Abbiamo 2. 3.27. 3.9. 4.9. 4.9.